Eeeh, presto ragazzi, io sono Cilisette e oggi do il prossimo episodio di Fortnite Dove ho fatto una volta un po' di news tra cui l'ultima Aggiornamento verso il 21.8 della battaglia reale di Fortnite Fucile pesante Prime, perfettamente per le state in arrivo Oggi vi leggo due news tra cui, da prima è Fortnite presenta l'amico 2022 Ragazzi, chi torna? Vediamo un po' se è quello che penso io, perché mi sembra che è proprio questo per forte impersonabilità Vediamo un po' Fortnite presenta l'amico 2022 Giocare insieme e tenete ricompense 19.7.22 E' un altro programma presenta l'amico di Fortnite Registrati con i tuoi amici idoni per il programma tra il 19 luglio alle 11.8 della italiana Scusate un attimo, ok? Perché ho scusato un attimo, ok? Tra il 19 luglio alle 11.8 della italiana E il 11 gennaio del 19.23 alle 5.59 O la italiana Quindi ragazzi E si, dall'estate fino all'inverno Bene Poi potrete continuare Poi potrete guadagnare fantastiche compensi di gioco Comprendendo i compiti insieme Insieme fino al 20 febbraio alle 5.59 o italiana Ecco come iniziare Quindi per chi ha forza Beh 1. Ricettati sul sito web presenta un amico con il tuo account epic Invita fino a 5.59 o italiani tramite il sito Tramite il sito Tramite il sito Qui sotto trovo le istruzioni Per giocare a Fortnite Comprendendo i compiti nel gioco insieme 4 E il 3 Ok 4 Ottenete i compenzi Comprese il nuovo costume Xander Una cosa Qua Se non sbaglio Forse Qua non lo dice Comunque Forza Un amico Si non Che magari È cambiato Comunque Pazzatore Era solo per Giocatori che Uno Forza Net Verso Nebeta Cioè Quelli che C'è Forza Nebeta E coloro che hanno scaricato Forza Quando c'era La stagione 0 C'era la stagione 0 Perché Non è che C'è Forza Non c'è più Ma comunque C'è stata Perché Ho Un amico Che ha Forza Verso Nebeta E che ha fatto Tutti e due Presenta un amico E Fa anche adesso Penso Registrarsi Invitare amici Guadagnare Compense In una volta Effettuata L'invitazione E l'accesso A sito web Presenta un amico Gli invitati Possono Invitare Gli amici Invitati A guadagnare Punti Giocando A fortemente Insieme Per poter Essere invitato Un giocatore Deve Avere giocato Meno Meno Di due ore Meno Di due Meno Di due ore In una playlist Zero costruzioni O battaglia reale Ovvero Singolo Coppia Tresette O squadra Negli ultimi 30 giorni Prima dell'invito Invitanti E invitati Possono guadagnare Punti Secondo E l'incanto Nella pagina Di descrizione Del programma I modi Punti Possono Giocare A fortale Insieme Tenere Minerazione In battaglia reale E o Zero costruzioni Soglie di livello Nell'account Fortnite Se parteciperai Al programma Come invitante Non potrai Partecipare In un secondo Momento Come invitato E viceversa Questo qui Quasi in immagine Tutti gli oggetti Di un gioco Che i giocatori Possono tenere Grazie Appresenta Un amico 2022 Invitanti E invitati Devono essere Amici Nel gioco Per partecipare Al programma Solo gli invitanti Hanno l'obbligo Di registrarsi Sul sito Del programma Ma gli invitati Possono essere Comunque Possono comunque Registrati Se vogliono Seguire I loro progressi Seguire Le sfide E ti metteranno Dei progressi Sul sito Di presente Un amico Fino all'aggiamento Degli obiettivi Una volta raggiunto Un obiettivo Invitante E invitato Riceveranno La ricompensa Associata Per esempio Comparando La sfida finale Che richiede A invitanti E invitati Fa salire Il livello L'account Forte Di 60 livelli Di carriera I partecipanti Sboccheranno Il costume Xander Ricorda Che anche Se un invitante Può partecipare Con un maestro Di 5 invitanti Diverse Ciascun Partecipante Invitante Invitato Può ottenere Ciascuna Ricompensa Una volta Sola Seconda News Di oggi Pacchetto Le leggende Legende 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 Degli anime 10 Nuovi oggetti In arrivo Su fortnite A partire Da ottobre 2022 19 Sette Domenico 22 Da Il team Di fortnite Reinventa La tua realtà A partire Da ottobre 2022 Il pacchetto Legende Degli anime Farà la sua Prima Operazione Il 14 Ottobre Nei negozi Fisici E il 22 Ottobre Nei negozi Online Questo pacchetto è in tutto 10 oggetti tra cui nuovi look per i personaggi più amati dai fan Oggetti nel pacchetto del genere degli anime Costume, attrezzatura, d'oro di Mida Scendere in strada e fare un sacco di soldi Ah ok Qua non vi leggo la seconda il stato titolo Vi leggo solo quello che dà Quindi oggetti nel pacchetto del genere degli anime Costume, attrezzatura, d'oro di Mida In cui del stile casco sia alternativo Dolce decorativo, schianato dorato Piccone e katana da 24 karati E basta Adattatura d'oro di Mida ha l'abilità tocco d'oro Con questo costume applico una copertura dorata in stile cartoon A qualsiasi arma equipaggiata Costume specchio e flesso rox Dolce decorativo, gorgo bacca E piccone lama, bacca, fiamma Costume e penni pronta Rosso decorativo, piccola, borso nera E piccone lama, scintillante Emote carrellino Le copie fisiche nel pacchetto del genere degli anime Saranno disponibili per i negozi Vi usate per PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch Le copie digitali saranno disponibili Nelle vetrine delle console o nell'epic game store E saranno utilizzabili su tutte le piattaforme che supportano Fortnite Sarà disponibile anche a via del processo di acquisto online Selezionando il pacchetto nel negozio oggetti Il pacchetto del genere degli anime sarà accusabile a 19,99€ E parate per il prossimo incontro con un nuovo equipaggiamento stilizzato Ok ragazzi, il video di oggi è finito Come siete, spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto, grazie, mi ha raccomandato un bel mi piace Commentate, condividete Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Seguitevi su Instagram C'è la cd Dicete tra basso Y tra basso Officiale, ragazzi Buon giorno è il vostro cd Dicete, è tutto Ragazzoli, ciao